Muniti da Super Green Pass ritorniamo a rincontrarci con molta cautela, rispettando quello che le norme giustamente ci impongono, ma c'era proprio la esigenza di rilanciarci e lo facciamo in questo momento molto bello dell'anno che sono il momento per scambiarci gli auguri di Natale assieme alle nostre famiglie. Forse Italia è impegnata a Ragusa come in tutto il territorio siciliano e nazionale più che mai e stasera lo manifesta la gente che è presente in questo momento. Ci incontriamo, ci scambiamo gli auguri, ci rilanciamo per il prossimo anno, il prossimo anno è un momento di grande competizione, si vota in 6 comuni su 12 della nostra provincia e saremo presenti con le nostre liste, con i nostri candidati sindaci, con i nostri, speriamo, consiglieri e assessori che verranno e se l'elettorato vorrà premiarci attraverso il nostro lavoro, attraverso il nostro progetto, lo farà in primavera prossimo. Forse Italia non ritorna ad essere protagonista, lo è sempre stato e lo continua ad esserlo assieme al Presidente Berlusconi.